ciao a tutti da max e dal canale smart max oggi ho intenzione di fare un video sulla compravendita di scarpe usate per i runners mi è venuto in mente perché in questo momento sto lottando su ebay per un paio di scarpe dalla germania da running scarpe costose però usate e allora come le scelgo le prime tre cose da vedere in ordine di importanza sono l'inter suola se l'intersuola è rovinata o meno due è la midsole quella ammortizzazione che c'è tra la suola e la tomaia della scarpa se perfetta va bene altrimenti se presenta delle piccole increspature sul bordo e si possono vedere tipo delle pieghe che siano sulla pelle potrebbe aver subito delle sollecitazioni anomale e come terza cosa che guardo molto importante come vestiti l'etichetta l'etichetta dove viene indicato la misura della scarpa lì si vede subito se la calzatura è utilizzato o meno è ovvio che poi la cosa principale da vedere in termini nominali il chilometraggio e qui le differenze tra il modello la tipologia di scarpa sono importanti perché se una scarpa da trail io posso arrivare anche a una cinquantina sessantina di chilometri perché l'intersuola è molto dura è robusta se invece una scarpa super ammortizzata allora i chilometri diminuiscono ma posso arrivare anche una quarantina se una scarpa leggera da velocità e allora non andrei più di 30 chilometri di vita della scarpa onestamente molto importante come evidente anche il costo della scarpa in questo caso io sto lottando e sto perdendo mi sa per dell'endorfin pro 2 è evidente che possa accettare anche un chilometraggio un po superiore a quello che ho appena detto nel caso specifico eravamo 53 chilometri sulla scarpa dipende molto dal costo è ovvio io poi volevo provarle al carbonio però anche qua stiamo attenti il carbonio solitamente per la grande maggioranza di quelle che sono nominate super scarpe ha una resistenza e un elasticità quindi una fruibilità un po limitata nel tempo diciamo carbonio dopo due cento trecento chilometri tende a perdere gran parte dei vantaggi che da però in quel caso si può sfruttare quella che si chiama la ciccia della scarpa solitamente queste scarpe hanno una grande ammortizzazione con la suola carbonio di mezzo che da grande spinta la spinta del carbonio viene a mancare però l'amortizzazione dell'intersuola della gomma della midsole quello resta e quindi può essere utilizzata non per correre ma per le lunghe distanze ad esempio intanto persone io di scarpe ne ho preso all'incirca 7 8 così vado a memoria usate una ho preso una fregatura abbastanza evidente le altre mi sono trovato abbastanza bene dipende molto poi anche dal canale cui voi andate a comprare di un negozio magari che vende scarpe usate allora un altro fattore importante da valutare è l'odore della scarpa può essere un po sgradevole ma si sente dal profumo o dall'olezzo chiamiamolo così se la scarpa è più o meno nuova più o meno utilizzata queste sono le cose principali che io cerco in una scarpa da running usata spero che sia utile questo video perché capisco che ci sono persone che sconsigliano vivamente di comprare scarpe usate però mi rendo conto anche che visto il continuo cambiare scarpe se si fanno tanti chilometri magari un risparmio di 50 60 o anche 70 euro per una scarpa che a pochi chilometri può avere un senso io l'ho fatto e lo farò anche in futuro ciao da max grazie ancora ciao